Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano a Via Reggio per gli incontri del Principe. Direttore, oggi hai titolato, hai aperto sui ritardi nella scuola. Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico e dire che c'è poca confusione e fare forse un complimento. I banchi che arrivano a ottobre, gli autobus anche lì ci si stringe, poi ci si allarga, il metro che si accorcia, le mascherine obbligatorie si anima forse a 12. Ma la ministra Azzolina, oltre ai rossetti color fuoco, dovrebbe pensare anche alle dimissioni? No, io non credo. Anzi, nell'analisi che abbiamo fatto stamattina, le parti dove stiamo sistemati meglio, meglio si fa per dire, perché poi nessuno ha la soluzione. L'intrigo della scuola è talmente complicato che abbiamo visto la Germania Modello ha già dovuto richiudere più di 100 plessi scolastici dopo averli riaperti in agosto, quindi nessuno ha la soluzione. Però diciamo che la parte banchi e la parte distanziamento e soprattutto sedi alternative, per garantirlo, parrebbe meglio organizzata. La parte che è molto deficitaria è quella che spetta al ministro dei Trasporti, cioè alla ministra De Micheli e in parte agli assessori regionali. Lì ci sono dei ritardi semplicemente inspiegabili, perché è una questione matematica. Lì si tratta di mettere in campo una serie di mezzi sufficienti per garantire anche i viaggi distanziati agli studenti e il fatto che ci si stia pensando con così ampio ritardo, non dico che dovrebbe indurre la De Micheli a dimettersi, ma almeno a darsi una mossa sì. Senti, invece l'editoriale di ieri era Don Flavio, che ricorda il Don Ferrante dei Promessi Sposi, che negava la peste e poi sappiamo, per chi ha letto i Promessi Sposi, cosa peraltro non scontata, sappiamo come finì. Un po' di cattiveria estiva? No, perché io naturalmente non voglio male a nessuno, quindi spero che Briatore, ma soprattutto i 60 e passa dipendenti del suo billionaire, a cominciare dal barman, che è purtroppo intubato, se la cavino tutti quanti egregiamente. Era per ricordare che quando si nega una cosa che è sotto gli occhi di tutti, molto spesso ci si accorge di avere detto una sciocchezza, quando poi quel morbo te lo prendi tu. Don Ferrante non ebbe modo di chiedere scusa delle stupidaggini che diceva sulle congiunzioni astrali che avevano prodotto la peste e quindi io auguro a Briatore di riaversi al più presto per dire alla gente semplicemente di stare un po' più attenta, non si tratta di barricarci di nuovo in casa, si tratta semplicemente di prendere delle piccole precauzioni, che è bene che tutti prendano per la tutela non solo della propria salute, ma anche per quella degli altri. Senti, l'ultima domanda è forse un po' scontata riguardo alla magistratura, perché per anni è attaccato la destra che si sarebbe inventata, il famoso complotto delle toghe rosse, ma la vicenda Palamara che cosa insegna? Palamara era una toga, non saprei come definirla, bianca, grigia direi. Però anti-Berlusconi. Grigia. Ma rosse intendiamo naturalmente anti-Berlusconi, tutti i colori fuorché quello di Berlusconi, l'azzurro diciamo. Io non ricordo una sola inchiesta che abbia mai dato fastidio a Berlusconi, non solo da parte di Palamara, ma anche da parte dei suoi colleghi romani. Quindi diciamo che a Roma di solito chi detiene il potere destra, sinistra, centro, non ha mai nulla da temere, a parte forse la Raggi. Però devo dire, io non vedo un complotto, io vedo purtroppo uno scadimento mostruoso all'interno della magistratura, che noi eravamo abituati a considerare la magistratura di Mani Pulite, la magistratura delle grandi inchieste antimafia. Purtroppo è diventata una cosa completamente diversa e opposta, e quando si pensa soprattutto alla carriera, perché poi Palamara era potente, non perché facesse delle inchieste, perché io non ne ricordo, forse quella un pezzettino di calciopoli, ma perché si occupava delle carriere dei suoi colleghi. Quindi l'aspetto degradante è vedere dei magistrati che invece di occuparsi dei loro processi pensano dalla mattina alla sera a sistemarsi ai migliori dei posti.